Ciao a tutti amici, oggi vi faccio vedere la mia nuova invenzione, il Weekend Project. Questa è la mia guitarra, ma per l'altro sta idea mi è venuta a me, ma ho visto su YouTube che altri l'hanno fatta. Violin Hero! Facciamo subito una prova. Facciamo subito una prova. Allora, per farlo funzionare, ho visto nei video di YouTube, hanno messo lo scotch sull'asta, no? Io invece ho messo lo scotch qua, magari dopo rimarrò un po' appiccicato, ho messo uno scotch nero qui e poi usando l'altro posto di scotch ho sgraffignato sopra in modo che il resto è un po' appiccicoso, così fa presa sull'archetto, no? Insomma, come si chiama sta cosa? La mazza, la mazza del violino. Però adesso facciamo facile. Facile, no? Facciamo buonissimo. Poi va su e giù, no? So che non ho mai capito come cavolo si chiama il violino, mi sta sulle pare e sulla spalla. Facciamo buonissimo. Grazie a tutti Grazie a tutti Troppo facile questo Mettiamo medium Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma perché sono scomodo? Perché vi voglio far vedere Però easy è troppo facile Allora Allora Certo sarà difficile fare qui la barra Non c'è problema Allora 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 Insomma se perdete a guitar hero Ma volete avere una scusa Allora usate Valium hero Così almeno avete la scusa che è difficile Ovviamente è tutto Ciao a tutti Grazie a tutti Allora